ciao a tutti amici e comprendiamo il microfono come vi sarete sicuramente accorti da qualche messaggio che ho inviato sulla community di di questo gruppo youtube mi è arrivato proprio poco prima di natale il la scheda del gps e anche il radiocomando quindi non ho avuto tantissimo tempo visto che poi ci sono state le festività natalizie non ho avuto tantissimo tempo di fare alcuni settaggi però qualcosina l'ho vista vediamo insieme allora dunque come sempre ringrazio alberto del sordo per i soliti messaggi che ogni tanto mi manda dandomi informazioni sui vari step perché lui ha già eseguito la costruzione di questo drone e dunque appena arrivato il radiocomando bisognava capire come funzionava quindi sono andato a cercare su youtube alcune informazioni e le ho riportate anche nel documento che è nella descrizione di ogni video che faccio riguardante questo drone quindi se volete man mano io lo faccio diventare sempre più grande sempre più esplicativo quel documento in modo che possa essere d'aiuto per tutti e insomma ho preso il radiocomando ho fatto l'aggiornamento ho fatto il binding con il ricevitore che avevo già installato sul drone eccolo qua nel frattempo sul drone come vedete sono aumentate un po di cosette installate con questo il gps che l'ho solamente saldato ma devo ancora decidere dove collegarlo vedete questa è la caddx vista che collegata alla camera che c'è qui davanti eccola qua e ho dovuto metterci due piccolissime alette di raffreddamento perché durante il setup quando il drone è fermo in realtà riscalda veramente tantissimo tanto da diventare molto molto bollente nel frattempo insomma ho fatto un po di settaggi sul drone e ho installato questo anche il gps e dunque le operazioni sono state aggiornamento come vi dicevo aggiornamento della radio linking della radio installazione di una serie di script scritti in lua per la radio nel frattempo vedete il video come si fa a farlo questi script servono per far arrivare la telemetria dalla ricevente quindi dal flight controller che la manda alla ricevente che la manda alla radio ed è abbastanza carina simpatica da guardare ti arrivano un sacco di informazioni dopodiché ho collegato il gps per il gps c'è da fare una nota in particolare e questo è un gps compreso di bussola bisogna trovare una posizione ottimale ed è il motivo per cui non ancora lo salda lo diciamo fissato sul drone perché essendo molto piccolo il drone non hai un piano di massa abbastanza largo da far sì che l'antenna riceva velocemente i satelliti e quindi sto facendo alcuni test mettendoci vedete un piano di massa un pochino più grande poi un po più piccolo insomma sto cercando di ottimizzare per far sì che prenda molto velocemente i satelliti e poi come vedete ecco questo è il sensore di rilevamento ostacoli provato anche questo insomma ho fatto vari test e non ancora sono arrivato ad armare i motori infatti non ci sono ancora le le eliche non sono arrivato ad armare i motori perché su ardupilot ti arrivano un sacco di pre arm warning cioè prima di armarlo ci sono delle configurazioni da fare che possono essere dalla calibrazione dei dei vari calibrazione del della bussola o altre altre cose calibrazione degli accelerometri ovviamente le posso bypassare però preferirei fare tutti i passi con calma insomma le cose vanno avanti e pian piano vi farò vedere cos'altro 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 viene fatto e se ci sono delle informazioni particolari non esiterò a comunicarvele intanto vi auguro buon anno a tutti ciao